due cose la prima è che ho vinto il padel e quindi va bene così la seconda la seconda è che raffa era inclusa era in squadra con me e all'ultimo all'ultimo non ha più voluto giocare capito due cose la prima è che ho vinto il padel e quindi va bene così la seconda la seconda è che raffa era inclusa era in squadra con me e all'ultimo all'ultimo non ha più voluto giocare capito grazie